signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale lo abbiamo già premesso la settimana scorsa quando abbiamo parlato degli elementi fondamentali del mega dungeon ma questa settimana andremo nel dettaglio esiste un posto che è comune a moltissime quest e moltissime campagne ma che in realtà viene molto spesso sottovalutato nella sua importanza il titolo del video l'avete visto stiamo ovviamente parlando del villaggio il villaggio non è sicuramente il luogo dell'avventura e del pericolo come il dungeon e non è il luogo degli intrighi e della politica come è la corte del re diciamo che non è sicuramente il luogo che a distanza di anni dalla fine di una campagna i giocatori ricorderanno come il posto dove è successo chissà quale evento leggendario ma questo non vuol dire che la sua presenza all'interno di un'ambientazione all'interno del mondo di gioco condiviso non sia fondamentale per garantire la buona riuscita in una campagna anche se il suo ruolo è defilato rispetto a quello degli altri non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere perché quando progettate la vostra campagna dovete passare del tempo a scendere nei dettagli e decidere molte cose per quanto riguarda il villaggio cominciamo subito con una premessa oramai questa frase sta diventando ridondante comunque i primi giochi di ruolo sono nati nell'immaginario fantasy e tutt'oggi il fantasy ricopre un ruolo fondamentale in quello che è il gioco di ruolo universalmente conosciuto di conseguenza molti dei termini tecnici che descrivono elementi delle quest e delle campagne si rifanno a quel tipo di immaginario e il villaggio di cui parleremo in questo video è uno di questi quando si parla di villaggio si intende il luogo di riposo e riequipaggiamento dei giocatori poi adesso lo vedremo ma per quanto la parola villaggio vi possa far venire in mente un immaginario a greste in cui i contadini lavorano le campagne in un'ambientazione pseudo medievale o cosa del genere non fatevi prendere in inganno dal termine il villaggio non è qualcosa che esiste solo all'interno dei giochi di ruolo fantasy per essere chiari il villaggio è il luogo in cui gli avventurieri tornano per riposare e riequipaggiarsi dopo aver finito le missioni non è fondamentale che sia effettivamente un villaggio non deve essere un gruppo di cascine abitato da contadini per essere tecnicamente un villaggio all'interno della quest i giocatori potrebbero fare base all'interno di un castello dove prendono ordini direttamente dal re quello sarebbe il loro villaggio ma per abbandonare totalmente l'immaginario fantasy in una quest urbana in ambientazione contemporanea il villaggio potrebbe essere il quartiere della megalopoli in cui i giocatori risiedono dove ci sono i png importanti per la quest o magari proprio il singolo palazzo dove i giocatori hanno la loro base in una quest di fantascienza il villaggio potrebbe essere un gruppo di cupole stagne dove vivono i minatori degli asteroidi in un sistema solare lontano ma potrebbe benissimo essere la stessa astronave dei giocatori che si sposta di sistema solare in sistema solare per portare i giocatori in giro e che fa da base per l'intero più che un vero e proprio luogo fisico anche se molto spesso esiste un suo equivalente fisico anche all'interno del mondo di gioco il villaggio è da intendersi come un insieme di concetti e funzioni che aiutano il master nell'organizzazione delle quest e i giocatori nel portare a termine queste stesse quest potrebbe anche non esistere fisicamente nulla all'interno del mondo di gioco che possa essere identificato come un villaggio ma le sue funzioni potrebbero essere sparse in giro per la mappa chiarito questo andiamo a vedere allora quali sono queste funzioni che servono al master dei giocatori che devono essere presenti nel villaggio la prima funzione del villaggio è ovviamente quella di essere il luogo dove gli avventurieri vanno a riposare e dove trovano merci e servizi che gli servono per migliorarsi o anche solo per proseguire nelle loro avventure questa è una funzione che è strettamente legata a quale sia proprio la meccanica il regolamento del gioco per cui l'ambientazione contiene il villaggio è stata prevista ogni gioco potrebbe dare un significato diverso a che cosa voglia dire riposare ed equipaggiarsi per i personaggi giocanti alcuni giochi pesantemente meccanici come può essere un dungeon sand dragon hanno proprio valori precisi di quante ore un personaggio debba stare a riposare e un prezzo elencato per ogni singolo pezzo di equipaggiamento che un giocatore potrebbe voler comprare in altri giochi quindi queste cose sono lasciate molto più all'arbitro del master dei giocatori e ci sono altri giochi ancora che in realtà non gestiscono proprio la cosa meccanicamente ma la cosa viene utilizzata esclusivamente come espediente narrativo in tutti i casi però deve essere quasi sempre data una giustificazione all'interno del mondo di gioco del perché il processo di recupero per gli avventurieri avvenga e il villaggio è probabilmente la soluzione più semplice e veloce che sia l'idilliaco borgo medievale dove vivono i contadini che sia il quartiere malfamato dove c'è il l'ambulatorio del ripper doc che ti mette gli impianti cibernetici e l'officina sul retro dove ti modificano la macchina fino alla stazione spaziale dove poter far rifornimento alla propria astronave il villaggio sarà il luogo che serve a giustificare all'interno del mondo di gioco come hanno fatto gli avventurieri a uscire pesti e malcolci da un'impresa ma essere pronti scattanti e riequipaggiati all'inizio della prossima impresa per quanto riposo e servizi siano fondamentali per i giocatori quello che il master può veramente fare nel villaggio è la possibilità di dare un volto umano ai png della quest e di conseguenza al mondo di gioco di in se stesso che il villaggio sia abitato dai contadini medievali sia il quartiere dove abitano i gangster dei bassi fondi e sia la colonia spaziale dei rudi minatori degli asteroidi nel villaggio i giocatori incontreranno quelli che sono i normali abitanti della vostra ambientazione ogni volta che i giocatori tornano al villaggio questi png potranno dare voce a quella che è l'ambientazione vera e propria i png del villaggio potranno esprimere opinioni politiche in base agli eventi della campagna potranno esprimere il loro ansio le loro gioie per quello che sta succedendo o anche semplicemente potrebbero inserire spiegare elementi di contorno che non necessariamente sono facili da far inseguire durante un combattimento durante un'investigazione ma che ero sono estremamente utili per far sembrare più verosimile il mondo di gioco senza contare che le parole dei png potrebbero essere elementi di foreshadowing i png del villaggio potrebbero parlare di qualcosa che sembra banalmente un elemento di contorno ma che poi invece si rivelerà estremamente utile più avanti nella quest i contadini del villaggio potrebbero esprimere preoccupazione perché hanno sentito che le armate del malvagio barone sono in marcia e magari il secondo atto della quest sarà appunto difendersi dal malvagio barone ovviamente tutto questo serve principalmente ad aumentare la verosimiglianza del mondo di gioco soprattutto se il master si prende abbastanza tempo da caratterizzare in una maniera concreta gli abitanti di questo villaggio magari rendendone qualcuno particolarmente strutturato rendendolo quello che si chiama il png col nome e che alla lunga non solo potrebbe diventare un elemento ricorrente all'interno del quest dei giocatori ma potrebbe diventare anche un elemento che aiuta a giustificare l'esistenza di queste stesse quest quando il re chiama gli avventurieri alla sua corte per affidargli la missione di salvare il regno sicuramente sarà qualcosa di epico di fondamentale per la salvaguardia dello stile di vita dei giocatori quello che è ma sia per i giocatori che per i loro personaggi fondamentalmente quello è solo lavoro ma quando i gangster della banda del teschio rapinano il locale della signora maria che tanto simpatica offre sempre la birra ipg e racconta storie divertenti andare a fargliela pagare magari non sarà una storia così epica e non sarà fondamentale per il continuo dell'universo come viene conosciuto ma sarà sicuramente un evento molto più sentito personalmente non solo dai pg ma anche dai giocatori che ci sono dietro ma anche quando i png del villaggio non sono direttamente integrati nella storia dei giocatori il solo fatto che esistano e che ogni tanto si punti un faro sui loro sulle vicende personali potrebbe diventare un modo per aggiungere spessore e aggiungere elementi al mondo di gioco questo ovviamente nell'ottica di rendere il mondo di gioco più interessante per i giocatori magari inserendo delle vere e proprie linee narrative secondarie slegate ai loro personaggi all'interno della storia la prima volta che i giocatori arrivano al villaggio incontrano un png il cui problema è quello che è troppo timido per dichiararsi alla sua amata e magari uno dei pg gli dà anche qualche consiglio anni di gioco dopo i giocatori sono diventati ricchi e famosi sono di alto livello quello che è in base al gioco ma adesso la locanda del villaggio è gestita da questo png insieme a quella che oramai è diventata sua moglie che ha preso il posto dell'originale locandiere che è andato in pensione anni prima anche lì durante una quest dei giocatori questo fa sembrare effettivamente quel posto un mondo vivo e non statico con i png che agiscono come marionette ogni volta che vengono interrogati ma in più da anche semplicemente una scusa ai giocatori per tornare più piacevolmente al villaggio anche solo per vedere chissà cosa è successo ai png mentre noi non c'eravamo questo potrebbe anche servire per mostrare ai giocatori l'impatto che i loro pg hanno avuto sul mondo di gioco magari i pg hanno sconfitto i famigerati pirati degli asteroidi e ora sulla colonia spaziale l'economia è molto più florida perché i mercantili non hanno più paura a passare in quella zona quindi c'è più commercio sono arrivati agli immigrati sono stati aperti negozi e magari di png che loro conoscevano hanno cambiato lavoro per andare a lavorare nel magazzino che si occupa delle spedizioni interplanetarie o cose del genere non tutti i png del villaggio ovviamente dovranno avere una caratterizzazione profonda avere un nome la maggior parte di loro può essere semplicemente una folla senza volto e senza nome che si aggira è semplicemente manifesta emozioni o discorsi utili al proseguimento della trama ma avere dei png al villaggio potrebbe essere utile anche per un altro motivo non necessariamente infatti i personaggi possono fare da soli tutto quello che serve per portare a termine le loro missioni e gli abitanti del villaggio potrebbero essere una riserva di alleati a cui i giocatori possono attingere quando i loro personaggi hanno bisogno di una mano il locandiere potrebbe essere un avventuriero in pensione che racconta miti e leggende su imprese che gli eroi potrebbero fare da loro consigli i delinquenti del quartiere malfamato potrebbero avere informazioni su dove si trovano le cose più interessanti da andare a rubare e l'ufficiale di macchina dell'astronave potrebbe avere conoscenze tecniche che aiuta il party a capire che cos'è il misterioso artefatto alieno che hanno piovato sul pianeta remoto i giocatori poi potrebbero aver bisogno di un aiuto molto più semplice ma molto più concreto un classico del fantasy soprattutto dell'OSR e che al party di avventurieri servano dei portatori che gli aiutino fisicamente a portar fuori il tesoro al dungeon e magari qualcuno che resti di guardia fuori e si assicuri che i cavalli non scappino ma il party potrebbe avere le necessità più disparate potrebbero voler assumere in pianta stabile un medico che viva sulla loro astronave e li curi ogni volta che tornino a bordo potrebbero aver bisogno di affittare un'intera officina meccanica col suo staff perché metta a posto la loro macchina potrebbero aver bisogno dei goal che fanno la guardia all'elisium per chi gioca a vampiri le necessità di avere fisicamente un png che compie un'azione all'interno del gioco sicuramente prima o poi verranno a presentarsi nella peggiore delle ipotesi il fatto che nel villaggio ci siano dei png grossomodo conosciuti potrebbe essere un modo molto facile per giustificare l'inserimento di un nuovo personaggio all'inferno nel party che sia perché uno dei pg è morto e il giocatore deve sostituirlo con un nuovo pg o magari più semplicemente perché un nuovo giocatore si è aggiunto alla campagna e bisogna giustificare nella storia perché un nuovo membro del party si è improvvisamente materializzato all'aria il nuovo personaggio giocante viene quindi inserito molto più facilmente nel gruppo se esiste una giustificazione per farlo potrebbe essere magari un png con nome particolarmente strutturato che uno dei giocatori ha deciso che è talmente interessante che vuole farlo diventare un personaggio vero e proprio ma più semplicemente la sua presenza potrebbe essere giustificata dal fatto che era uno dei png che giravano per il villaggio e che quindi in un modo o nell'altro già conosceva gli avventurieri o anche nei casi più estremi potrebbe essere un conoscente o un amico di uno di questi png che una volta saputo dell'esistenza degli avventurieri o che gli avventurieri avevano bisogno di una mano ha chiesto al suo amico in comune di farsi presentare per farsi assumere dalla banda di avventurieri se il villaggio è stato ben progettato da parte del master e magari la campagna dura già da un po quindi i giocatori hanno avuto già modo di vedere come funzionano le cose questo potrebbe rendere anche molto più facile creare un retroscena per quel nuovo personaggio il giocatore sa già come funziona il villaggio e quali sono le possibili attività che il suo personale viaggia già potuto fare al suo interno e anche per gli altri giocatori sarà molto facile capire cosa aspettarsi da un individuo che viene da un ambiente che già loro conoscono bene possiamo quindi dire che in pratica tutto questo video è un modo estremamente prolisso e arzigugolato per dirvi di non sottovalutare le potenzialità che il villaggio potrebbe avere nella vostra ambientazione nella vostra campagna nella vostra quest esattamente nello stile del master kai ma a questo punto la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono i png importanti dei vostri villaggi o i villaggi più caratteristiche e particolari che avete inserito nelle vostre quest che avete trovato nelle vostre quest come giocatore e se effettivamente quando il villaggio è stato messo in pericolo i giocatori hanno fatto qualcosa per salvarlo o se se ne sono fregati o se molto più probabilmente sono stati loro a metterlo in pericolo come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete anche quelli nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete l'opiuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco del gruppo di telegram dove metto io gli annunci dei video manualmente e dove trovate anche l'intera community del master cae da cui ogni tanto saltano fuori dei progetti come avete visto nelle settimane scorse detto questo io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao